Una croce che viene dal Salvador, dello stesso artista che ha realizzato quella donata dai vertici della Federazione Luterana Mondiale a Papa Francesco dopo la celebrazione d'inizio del suo Ministero di Vescovo di Roma il 20 marzo 2013. E' questo il logo della visita del Papa in Svezia dal 31 ottobre al 1 novembre a Lunde a Malmo dove parteciperà la commemorazione ecumenica dei 500 anni della riforma di Lutero sul tema dal conflitto alla comunione uniti nella speranza con il Presidente della Federazione Luterana il Vescovo Munib Yunan e il Segretario Martin Junge. Qui li vediamo presentare il documento preparatorio di questo evento a Papa Francesco nell'ottobre del 2013 insieme ai rappresentanti della Commissione per l'Unità Luterano Cattolica. Il Segretario di Stato Vaticano, Cardinale Pietro Parolin, ci parla del significato storico della celebrazione del 31 ottobre. Nel 1517 Lutero, il monaco Lutero, nella città di Wittenberg contestò pubblicamente la vendita delle indulgenze. E anche in un contesto diciamo di grandi mutamenti, mutamenti politici, sociali, economici della società di quel tempo, diede avvio ad un processo di cambiamento che portò purtroppo alla divisione, alla separazione delle Chiese in Occidente. Per la prima volta cattolici e luterani, cattolici con la presenza del Papa, ecco, commemorano insieme questo centenario, questo quinto centenario della riforma. E io penso davvero che si può parlare di un momento storico, si può parlare davvero di una pietra miliare nel cammino di riconciliazione e di ricerca comune dell'unità fra le Chiese e le comunità ecclesiali. E questo momento così importante è un po' il frutto del dialogo che si è sviluppato durante questi 50 anni, a partire dal Concilio Vaticano II, a partire dal, diciamo, dalle sollecitazioni del Concilio Vaticano II, un dialogo che ha cercato appunto di superare le difficoltà, ha cercato di creare fiducia fra le parti, ecco, ha cercato di mettere in luce, secondo quel principio enunciato già da San Giovanni XXIII, ciò che unisce più di ciò che divide e separa. Quindi veramente è da ringraziare il Signore per essere arrivati a questo momento, ecco che è il frutto appunto di un cammino che si sta portando avanti da tempo e chiedergli di aiutarci anche attraverso questo momento di commemorazione comune e di proseguire nel cammino del dialogo e della ricerca dell'unità della Chiesa. Dopo la preghiera ecumenica ci sarà un momento di festa e testimonianze dedicato soprattutto ai giovani. Sì, mi pare che si svolgerà nello stadio di Balmò e sarà un momento appunto festivo, un momento di gioia che si rivolge soprattutto ai giovani e all'interno, ho saputo che all'interno di questo momento celebrativo ci sarà anche la firma di un accordo fra la sezione del Servizio per il mondo della Federazione Luterana Mondiale e la Caritas Internazionale. Come a dire che questa riconciliazione che stiamo cercando deve andare soprattutto a vantaggio della comune testimonianza nei confronti del mondo, deve tradursi in un incontro, deve tradursi in un atteggiamento di amore compassionevole nei confronti delle tante persone che soffrono per le più diverse cause nel mondo. La Svezia è un paese molto secolarizzato anche se ultimamente si sta registrando un nuovo interesse verso la religione. Lei pensa che la testimonianza comune di cattolici e luterani potrà fare breccia in questo individualismo e materialismo? Ma certamente, basta ricordare la parola di Gesù, ecco da questo crederanno nella misura in cui date è una testimonianza comune. Evidentemente questi sono i pericoli delle nostre società secolarizzate, da una parte questa chiusura in se stessa senza apertura agli altri e qui possiamo ricordare appunto l'insistenza del Papa Francesco sulla cultura dell'incontro e mi pare che la stessa commemorazione ha proprio questo titolo, vuole sottolineare questa dimensione perché parla di passare dai conflitti alla comunione, ecco, e poi dice uniti nella speranza. Ma la comunione significa proprio il superamento dell'individualismo, il superamento della chiusura in se stesso, il superamento del ripiegamento in se stessi, ecco, che poi è all'origine dei tanti conflitti. La piccola comunità dei cattolici svedesi sta crescendo anche grazie all'immigrazione. Il gesto ecumenico del Papa l'aiuterà a crescere anche nella comunione con i luterani? Ma certamente, io credo che questa presenza del Papa, ecco, sia un grande stimolo per la comunità cattolica a continuare in questo cammino di ricerca dell'unità, in questo cammino ecumenico. Oggi la scelta ecumenica è una scelta irreversibile e nonostante abbia conosciuto, conosca anche difficoltà, ecco, credo che si deve andare avanti coraggiosamente. E in questo senso penso che la comunità cattolica in Svezia, che poi, come giustamente lei diceva, ecco, è composta anche di tante componenti, ecco, si sta arricchendo di tante componenti, possa lavorare insieme con la comunità luterana, ecco, proprio per la testimonianza cristiana. Speriamo che questa commemorazione comune apra al futuro di Dio, che è sempre un futuro ricco di promesse. Grazie.